E come c'è l'immigrazione per amore e lavoro? C'è anche purtroppo l'immigrazione per la guerra che porta i ragazzi di ogni età che fanno la mia casa e noi è una cosa che al fine è un po' di beneficio a nessuno questa fraude di grattano, grazie a me C'era un ragazzo che vuole a base che i nostri gioi sono gira dal mondo e mi guarda dove gli stati uniti avendo un po' non è affetto ma tanto se a me è un ragazzo che vuole e mi guarda dove 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 ma lì c'è l'immigrazione per la vita e la ma la città e la e la ma la città la ma lì c'è l'immigrazione come e la e la te La. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.